we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un bel po di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite parleremo della prossima patch con tante novità in arrivo per quanto riguarda la mappa le skin gli eventi un sacco di cose parleremo dell'ultimo aggiornamento sui veicoli e di alcuni cambiamenti importanti prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e ora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e c'è una novità che non è stata annunciata da epic games ma la potete trovare nel vostro armadietto da un giorno circa da qualche ora il ranger dell'amor perduto quindi quello oscuro è stato appunto trasformato nel set delle skin oscure dove ci fa parte ad esempio il bombardiere il bombarolo oscuro la versione oscura di accordo potente il jolly oscuro e altre skin questo potrebbe appunto voler dire che hanno voluto racchiudere tutte queste skin particolari in un unico set anche in fatto perché sta per arrivare la versione femminile di questo ranger tra l'altro dovrebbe essere rilasciata fra pochissimi giorni molto carina anche lei l'abbiamo già vista con un doppio piccone quindi una piccola notizia che andava detta e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una novità per quanto riguarda le tanto famigerate monete xp gold quelle d'oro che avevamo disponibili nella precedente season in questo capitolo precedente in questa season ragazzi ci sono tre tipi di monete le blu le verdi e le viola e hanno cambiato completamente tutto il totale di punti esperienza che ci danno ogni settimana ne aggiungono ma arriva una notizia è stata aggiunta con l'ultima patch una punch card quindi una scheda punti dedicata alle monete d'oro nonostante però non siano ancora presente in game ogni moneta d'oro ci darà ben 15.000 punti quasi anzi un po di più di una delle sfide giornaliere quelle che cambiano ogni giorno alle 15 abbiamo anche le notizie riguardanti la scheda punti per fare appunto i vari stage ne dovremmo prendere una poi tre poi cinque poi sette e poi dieci la cosa che è appunto un po strana che non sono ancora state aggiunte quindi o le aggiungeranno nella prossima season o altrimenti stanno facendo dei test che ancora non sono pronti anche perché mi sa che non le abbiamo dieci settimane da giocare ancora davanti in questa season se non dovessero posticiparla se non dovessero posticiparla e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è anche un'informazione per un problema che sta capitando a molti di voi è successo anche a me giocando in coppia il bug della chug infinita la chug mitica quella che si può ottenere se non ricordo male alla fortiglia alcuni utenti quando droppano la chug magari la stai dando al tuo compagno di squadra non è più possibile poi recuperarla quindi rimane baggata ovunque essa sia e non si può più riprendere nell'inventario è un bug appunto che hanno riscontrato in tanti da pochissimo fortnite ha aggiunto questo problema nella lista di cose che verranno fixate con la patch 13.30 quindi ragazzi se avete trovato questo bug dovete aspettare ancora un po insomma quando tornano dalle vacanze dovrebbe essere il 13 o il 14 luglio e andiamo avanti a parlare di un argomento interessante che ogni giorno ha sempre qualche novità sto parlando ovviamente dei veicoli ragazzi abbiamo già parlato e straparlato di tutto quello che succederà quanti sono quanto è il serbatoio quanto hanno di salute ma arrivano delle immagini sulle pompe di benzina che potranno essere utilizzate per dare appunto benzina ai nostri veicoli dovremo vederle proprio in questa immagine come vedete si differenziano dalle normali gas pump perché sono appunto con il manicotto diverso e proprio la pompa di benzina in sé non è rotto arrotondata ma è quadrata tra l'altro dovrebbe anche essere il manicotto forse interagibile nel senso si colora per qualche istante quando ti avvicini non sappiamo purtroppo il meccanismo in game vi avevo fatto vedere qualche giorno fa l'animazione di quando il personaggio va a fare il pieno di benzina perché ci sarà proprio un'animazione sapete benissimo che non tutti i distributori potranno essere utilizzati per riempire il serbatoio dei veicoli vi basta andare su un veicolo aprire la minimappa e vedrete appunto le indicazioni sui distributori utilizzabili vi ricordo anche che potremo portare il carico di benzina extra utilizzando le tanniche le hanno aggiunte anche queste anzi le hanno rese interagibili con i personaggi nell'ultima patch staremo a vedere come e quanto potremmo caricarle nel nostro inventario per appunto avere una scorta di fuel di benzina per andare in giro i veicoli ragazzi saranno davvero tanta tanta roba e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un'altra immagine molto interessante che arriva per il set di picconi che faranno parte del bundle degli spettri sappiamo ragazzi che il bundle degli spettri sarà formato da tre skin usce asce la ragazza il jolly e la gente del caos avranno tre backpack mentre il set di picconi non sarà incluso nel bundle ma sarà acquistabile in un unico pacchetto beh ragazzi ecco come lo vedremo in game è davvero molto carino ci aspettavamo appunto di vederlo più o meno così questa è un'immagine che lo mostro appunto chiaramente bello nel senso carino potevano potevano anche non farli nel senso però ci sta ragazzi quindi per tutti quelli che volessero acquistarlo lì è l'immagine in game andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché alcuni utenti di ps4 stanno ricevendo questa offerta nel play store quindi controllate per caso ragazzi se l'avete anche voi potrete acquistare pochi v bucks 200 v bucks per un euro e 99 questo vi potrebbe servire ad esempio se siete dei giocatori di salva al mondo però vi ricordo con la versione quella vecchia quella nuova ragazzi non vi da v bucks appunto vi potrebbe servire se magari avete avete già un gruppo un gruzzoletto di v bucks e volete prendervi una skin invece che spendere 10 euro ne potete spendere solamente due e prenderne appunto 200 tra l'altro la funzione di ricarica v bucks quella appunto che ci permette mettiamo che vogliamo acquistare una skin da 800 ne abbiamo 400 solo in italia abbiamo la possibilità di comprarne altri 400 non dovrebbe essere ancora disponibile in nessuna parte d'europa non sappiamo bene perché l'abbiano voluta testare su di noi comunque se volete dare un'occhiata al vostro play store controllate magari avete anche voi questa possibilità di acquisto e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un grande casino anzi un bel polverone che si sta sollevando tra epic games e pubg tra fortnite pubg chi si ricorda i miei vecchissimi video news quelli del 2018 ci fu addirittura una causa legale inoltrata da pubg per aver copiato le meccaniche di gioco e alcuni elementi di fortnite hanno denunciato fortnite per averli copiato appunto determinate cose la cosa un po particolare perché vi sto facendo vedere l'immagine del capitolo 2 ma è perché da poche ore ragazzi hanno fatto vedere quelli di pubg che c'è la nuova mappa e scusami un attimo scusami un attimo mi mi sembra che c'è qualcosa che è abbastanza simile ora io non però hai capito però hai capito quindi non vorrei dire si sta alzando un bel polverone perché giustamente tutti gli utenti dicono ma cavolo avete denunciato avete avuto il coraggio di denunciare epic games per plagio gli presentato un'immagine così per annunciare la nuova mappa avete capito che state un po facendo la figura dei ciucci insomma ragazzi staremo a vedere anche qua se epic games deciderà di procedere oppure di lasciar perdere e andiamo avanti con l'ultimo argomento di oggi ragazzi perché volevo dirvi che c'è stata una modifica anche questa abbastanza silenziosa per quanto riguarda le risse a squadre c'è un'immagine dell'rpg ragazzi perché sono stati aggiunti gli rpg sia nel floor loot quindi nel loot a terra che nei drop questo ragazzi è molto interessante perché vi può aiutare a completare o meglio ad avanzare perché completare vi garantisco che è impossibile la scheda punti degli esplosivi quindi dove dobbiamo fare delle kill con armi esplosive siccome è una delle cose più difficili da fare o comunque farne tante adesso dalla rissa squadre potete magari approfittarne per incastrare un po di kill visto che ci sono i respawn illimitati finché non finisce il numero di kill e quindi portarvi avanti insomma ragazzi anche per oggi io tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi di lasciare un bel like ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao